Senti, guarda come si funziona questo. Rilassami, non c'è che funziona. Che pensi, che sto scemo? No. Allora, devo mettere una maschera, per favore. Una maschera, sì. Funziona. Affidami. Dai. Mani in alto, subito! Sordi, spiegati! No. Che hai detto? Oh, stronzo, non l'hai sentito? I soldi, subito! Con questo giocattolo. Che dice che ha più storia il mio amico in un giocattolo, eh? Eh? Ma state zitto, stronzo. Ora vuoi far vedere al papà come funziona la storia. Tanto, Gulliver, prendete questo nanetto e vedi andare a fare sapone in un'altra parte. Ma sono io che ho un nanetto! Io ne so un po' le mani, vecchietto! Vai, 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 via, via, via. Sti ragazzini, oggi come oggi. Ah, chi è? Senti, lascia sta io. Io mi sa che vado a vendere scarpe. Anzi, forse che ero quel vecchietto là. Teoricamente sembrava una persona per bene. Ma che stai sceno. Guarda, la prossima volta prendiamo delle pistole vere e basta. Pistole vere? E chi compra? Te? Quei soldi che non c'hai? Ma lascia perdere, va. Guarda, abbiamo solo avuto un po' di sfortuna. Ci serve solo qualcuno che ti faccia vedere come, sai, funziona sta storia. Ah, forse andiamo all'università. Forse c'è un negozio di queste cose qua. Perché proprio te fanno stare all'università, eh. Ma dai. No, l'unica cosa che serve è qualcuno che sa come... Ciao. Ciao. Cosa posso fare per te? Ah, sai, niente di grave, bello. Solo, sai, mi puoi dare tutti i tuoi soldi? Senti, bella, io non ho una lira. Però se vuoi posso offrirti qualcosa da bere. No, grazie. Penso che prendo tutti i soldi nella tua cassa. Che cosa? Sbrigati, vecchietto. Grazie. Ciao. Ehi! Ok, a terra. Gesù, vieni qui e sbrigati. Allora, razza di imbecilli, chi siete? Che cazzo volete da me? Ehi, calmati, bella. Guarda, noi non ci vogliamo fregare, anzi. Vogliamo lavorare per te. Che? Sì. Abbiamo visto che hai fatto con quella testa di gazzoli nel bar. Sei meravigliosa. Allora siete stati voi, quei due scemoniti di fronte al bar. E mo' volete lavorare per me? Sì, esattamente. Pensa un po', no? Tu come capo. Oppure come capa. Non dovresti più muovere un dito. Solo, sai, quando tiri fuori i soldi mentre fai shopping. Esatto, quello che dice lui. Beh, ok. Volete lavorare per me? Va bene. Però vi dico una cosa. Se vedo che voi stronzi provate a fregarmi. Vi rompo il cazzo in una maniera che anche i vostri nipoti usciranno femmine. Capito? Sì, signora. Perfetto. Il cazzo. Grazie a tutti.